La lunga settimana che porterà il Catania alla ripresa del campionato è appena iniziata e dopo la giornata di riposo di oggi i rossazzurri avranno sei giorni per preparare il match sul campo del Fondi che si giocherà in posticipo lunedì 23 alle 20.45. Probabilmente sarà la prima di Marchese da titolare nella sua terza avventura con il Catania con cui giocherà certamente in difesa. Bisognerà solo capire chi gli dovrà fare posto anche se è possibile che alla fine Rigoli decida di impostare la difesa a tre con lo stesso Marchese, Bergamelli e Drauzio. In questo caso il tecnico rossazzurro avvarerebbe il centrocampo a cinque con la certezza di poter schierare Giorgiovic a sinistra e l'incognita dell'esterno destro data la squalifica di Di Cecco. Probabile che sia Parisi il prescelto e questa è certamente la soluzione più naturale sia che si giochi con la difesa a tre che con quella a quattro. In mediana mancherà comunque anche Scoppa sempre per squalifica ma è chiaro che in ogni caso avrebbe trovato posto difficilmente perché con la ritrovata disponibilità di fornito sarà lui a giocare insieme a Capitan Viaggianti e Bucolo. In attacco invece in attesa di novità dal mercato e se si giocasse davvero con il 3-5-2 sarebbero Anastasia e Mazzarani a guidare il reparto avanzato mentre se scendesse in campo il tridente giocherebbero sotto con loro anche se non va sottovalutata la possibilità che Di Grazie insinui in regoli anche questo dubbio per tutta la settimana.